Buongiorno, buongiorno, innanzitutto è un piacere essere qua e le prime sensazioni sono state veramente molto positive perché ho incontrato uno staff e un gruppo che mi hanno accolto subito nei miglior dei modi e poi parla sempre il campo quindi subito stiamo lavorando per preparare sempre la partita del weekend e ho trovato veramente dei compagni e uno staff veramente disponibile a accogliermi veramente nei miglior dei modi. Come è nato il contatto con il Perugia? Diciamo che è stato un contatto avvenuto negli ultimi giorni di mercato e subito appena ho ricevuto questa proposta ho accettato subito dicendo di sì con grande piacere perché indossare questa maglia gloriosa di una città così importante e di una società così storica è un onore. Quali sono le tue caratteristiche? Le mie caratteristiche sono diciamo essere un giocatore aggressivo di gamba e fisico che deve diciamo tenere d'occhio tutte le fasi di una partita che ci possono essere e poi diciamo che sono a disposizione appunto del mister e spero di ripagare la fiducia della società. Cosa ti ha lasciato l'esperienza al Torino e che tipo di allenatore è Juric? Beh sicuramente un'esperienza fondamentale per la mia crescita e soprattutto una preparazione fatta in questo modo con il mister Juric che lo ringrazio ed è stata una persona veramente super, allenatore veramente che ti tira fuori meglio di sé e è stato un ritiro veramente importante per affrontare al meglio la stagione e quindi lo ringrazio. Alvini è un tecnico che in carriera ha dimostrato di saper migliorare le individualità attraverso il gioco. Questa possibilità di crescita la possiamo mettere come una delle motivazioni che ti ha spinto ad arrivare in questa piazza? Sì sicuramente è un mister veramente molto molto preparato e che cerca di tirar fuori sempre tutte le potenzialità di un singolo giocatore e io con il lavoro, con il sacrificio, con la dedizione cercherò di veramente ripagare e di mostrare le mie qualità in campo. Sabato si va a Frosinone, che partita ti aspetti? Sicuramente è una battaglia, una battaglia perché loro è una squadra molto forte, molto attrezzata e però noi stiamo lavorando per prepararla sempre al meglio e quindi dobbiamo arrivare lì per ottenere la vittoria e giocare la nostra partita. L'obiettivo però personale riguarda quello di migliorarsi giorno dopo giorno attraverso gli allenamenti e ovviamente ottenere i punti e quindi le vittorie per cercare di fare bene e ottenere più posizioni in classifica per arrivare verso i posti di vertice e diciamo che appena arrivano queste cose e quindi è una scala seguente arrivano grandi obiettivi e quindi tutto migliora. Fai un saluto a tutti i tifosi del Grifo. Un saluto a tutti i tifosi del Grifo, vi aspetto allo stadio e sarà un onore.